Un weekend in concomitanza con la Fiera Antiquaria per la sede di Signarezzi che apre le proprie porte per ospitare un'esposizione dedicata ad alcuni degli scudi che sono stati recentemente restaurati. Stemmi e Blasoni è il titolo di questa iniziativa. Consiste sostanzialmente nel poter avere la possibilità di esporre un piccolo estratto degli scudi che fanno parte della scenografia di Piazza Grande. Tutto questo è stato possibile con l'aiuto indispensabile direi dell'Ufficio Cultura e Giostra del Saraceno del Comune di Arezzo che ci ha dato la possibilità di poter attingere a quello che è tutto il comparto degli scudi che appunto allestiscono la scenografia di Piazza Grande con delle piccole perle e quindi ne abbiamo avuto modo di poterli esporre per il prossimo fine settimana. Nel corso degli anni poi è cambiata anche la loro disposizione, quella degli scudi in piazza, adesso sono disposti con una suddivisione specifica. Esattamente questa scenografia è stata ideata nel 97. Prima la piazza era divisa semplicemente tra i quattro quartieri attualmente invece è divisa sempre in quattro parti ma ogni facciata, ogni lato o meglio della piazza ha un senso quindi le loggi vasari sono suddivise tra i vari quartieri, la facciata del Palazzo di Fraternita sulle parti istituzionali, la facciata del Palazzo San Martino fino a Borgunto viene allestita con gli scudi che ritraggono i castelli del distretto mentre la facciata di Palazzo Brizolari viene diciamo allestita con gli scudi che ritraggono tutte le nobili e casate.